Cosa si può fare oggi per rimediare a un errore? La prima cosa è riconoscere che c'è stato un errore, perché per entrare sulla legge di stabilità ci vuole la consapevolezza che quello che era stato fatto era fuori tema. Noi siamo fuori tema rispetto al provvedimento del 28 di luglio, perché il 28 di luglio prevede fondi per tutta l'Italia, anche per la regione Liguria, ma per la regione Liguria non prevede le somme per le imprese agricole. Ci sono altre somme messe a disposizione della regione Liguria perché sono state richieste, ma quelle delle imprese agricole, siccome non sono state richieste, non ci sono. Quindi su questo provvedimento non si può fare niente perché non ci sono. Sulla legge di stabilità è ovvio che si può tentare di fare qualcosa a condizione che chi ha sbagliato lo riconosca, che la regione Liguria dica abbiamo sbagliato, abbiate pazienza, abbiate pettà di noi, integriamo sulla legge di stabilità, noi faremo tutto quello che si può fare per cercare di rimediare questo problema. Ma è chiaro che se l'opzione è, no no, state tranquilli che ci pensiamo noi, è tutto a posto, è evidente che è difficile in una situazione di emergenza nazionale, sulle calamità naturali, e non sono io a dirvi quali, sono numerose in questi mesi in Italia, è difficile pensare che si possono ritariare 16 milioni di euro per le imprese agricole Liguri. Quindi c'è un impegno straordinario, ci sarà un impegno straordinario del gruppo parlamentare e del gruppo regionale del PD che io mi auguro sia condiviso e anche compartecipato da parte di tutte le forze politiche. Io non ne faccio una battaglia personale, lo dicevo anche a Maio, guardate che se prendiamo 16 milioni non è che facciamo felici il PD, facciamo felici le imprese agricole. Il problema sembrava nascere da una mancata integrazione della scheda C, però in realtà poi il problema è più grave. Sì, è più grave perché non è solamente l'integrazione della scheda C, che è quella che viene richiesta dalla protezione civile. Il punto è che l'assessore Mai non ha fatto neppure la domanda di richiesta dei fondi e quindi non avendo fatto la richiesta dei fondi non è un problema di integrare la scheda. Perché se uno avesse fatto una lettera, ma avesse documentato i danni in qualche modo e li avesse almeno richiesti, i fondi sarebbero stati messi a disposizione. Qua siamo nella condizione che non c'è da integrare una domanda, perché la domanda non c'è e quindi siamo in una situazione decisamente peggiore dell'integrazione.